buongiorno amici e amiche di nova news 24 anche questa mattina vi aggiorniamo sugli ultimi sondaggi intanto vi diciamo proprio che manca poco veramente poco alla finalissima del grande fratello i sondaggi volano sembra che ci sia già il prossimo finalista nell'aria ed è lui sergio d'ottavi che nel primo sondaggio domina la scena con 56 punto 23 per cento letizia petris al secondo posto col 27 punto 98 attenzione perché letizia sta guadagnando qualche consenso ma ancora è molto bassa rispetto a sergio che è veramente una sorpresa ma non ci si spiega come greta rossetti la sua compagna nella casa si trovi solo al terzo posto con il 15 punto 79 per cento il primo sondaggio da il verdetto amici di nova news 24 sergio d'ottavi vola in finale a sfidare per la beatrice rosy max e poi ovviamente simona tagli che sono ovviamente i finalisti che sono stati già decretati attenzione perché ci sono anche nuovi sondaggi sul web che dicono più o meno la stessa cosa andiamo a leggerveli subito ricordandovi proprio che i sondaggi sono sempre sondaggi al secondo sondaggio che questa mattina arriva ci sono ovviamente percentuali un po diverse rispetto a quelle del primo sondaggio ma sergio è sempre in testa con il 53 per cento di voti letizia al secondo posto con il 31 e greta ultima posizione solo il 16 per cento amici di nova news 24 i sondaggi rimangono sondaggi ma sembra proprio che sergio sia il nuovo finalista e letizia e greta siano proprio spacciate l'unica possibilità è che letizia recuperi qualche punto proprio facendo un recupero tra oggi e domani ma sempre davvero difficile almeno per quanto riguarda i sondaggi diteci cosa ne pensate voi chi volete in finale sergio letizia o greta se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su nova news 24